a tutti piacciono torte sformati salati o dolci e qualsiasi tipo di pasticcino ma quando si tratta di farli è un'altra storia devi preriscaldare il forno e poi seguire un'infinità di istruzioni è così stressante usare spesso il forno poi fa lievitare la bolletta dell'elettricità la soluzione si chiama duodine è il modo migliore per cuocere quiche crepe pizze torte sformati e molto altro è incredibilmente versatile grazie alle sue tre posizioni a 90 gradi lo usi come padella chiudendo lo trasformi in un efficiente forno e se lo apri completamente puoi sfruttare entrambe le superfici allo stesso tempo duodine ti permette di cucinare senza olio così le tue pietanze saranno ancora più sane oltre che deliziose e ti aiuta a mantenere la linea niente più facile che sfornare una quiche lorraine sistema l'impasto e aggiunge gli ingredienti chiudi duodine e regola il timer duodine farà tutto da sé gusta tutti i sapori è perfetto anche per fare pizze scegli i tuoi ingredienti preferiti con duodine la tua dieta è più sana perché sai quello che mangi guarda questa pizza è ideale per cucinare qualsiasi tipo di torto sformato dolce o salato pasticcini e molto altro al contrario di un forno tradizionale che consuma molta elettricità duodine grazie all'esclusivo design sfrutta il calore in maniera assolutamente efficiente facendoti risparmiare sulla bolletta una volta chiuso duodine crea un effetto forno attivando una circolazione di calore a 360 gradi attorno al cibo per una cottura perfetta e uniforme grazie alla triple funzione di forno padella e grill puoi cucinare carne pesce crostacei riso omelette e molto altro le possibilità sono infinite spendi molti soldi in cibi precotti pizze pietanze consegnate a domicilio con duodine potrai evitare questa spesa e mangiare cibi più sani e gustosi se ordina adesso riceverai gratis anche questo set di stampi da forno in silicone potrai cucinare alla perfezione dolcetti muffin e altri deliziosi pasticcini senza che si bruciano attacchino ma non finisce qui riceverai anche l'esclusivo ricettario duodine per realizzare piatti facili e squisiti da condividere in famiglia o con gli amici non aspettare non lasciarti sfuggire questa opportunità